Ciao ragazzi, buongiorno, sono le 10.12 del 30 dicembre 2022 Presto andrò a fare la mia prima guida con la scuola guida, ma questo non riguarda il video In questo video, siccome ho appena scoperto letteralmente pochi secondi fa di questa cosa Volevo un attimino parlarvi e dire cosa ne penso Ovvero, non so se lo sapete, ma scusate se mi muovo di accendere la luce Ma la Nuova Zelanda ha praticamente fatto questa legge che vieta alle persone nate dal 2009 in poi Completamente l'acquisto delle sigarette Questo non significa che adesso quelli nati dopo il 2009 non possano prendere sigarette Anche perché è abbastanza normale, non sono ancora maggiorenni, insomma ne mancano ancora 5 anni Ma nel senso che per tutta la loro vita non potranno comprare sigarette E vi dirò la mia Io non vedo il motivo per cui questa non dovrebbe essere una buona scelta Detto proprio sinceramente Perché il fumo delle sigarette, a mio parere, non ha minimamente senso È un tipo di droga orribile Nel senso che è una droga che ti rende schiavo e basta Non ha un effetto benefico Lo ha, ha un effetto benefico soltanto secondo me Poi non ho mai fumato Ma porco 2 è 18 anni che vivo È 18 anni che sento parlare di fumo anche da chi fuma E ti può dare un attimino di Ah, quando fumi Ma secondo me ti dà più questo effetto quando sei già dipendente Perché hai bisogno della nicotina Da cui sei già dipendente Quindi se stai troppo tempo senza nicotina Devi per forza fumarla Farla rientrare in corpo E lì ti senti realizzato Dici, finalmente Ma a mio parere Se uno non inizia a fumare È meglio Questa è una cazzata Nel senso, ok, sì, grazie al cazzo Mister Mister grazie al cazzo Però Se Il vero problema del fumo Fino ad adesso È la dipendenza Nel senso che Ovviamente non puoi iniziare da zero A vietare il fumo a tutti Cioè non puoi dire da oggi niente sigarette Perché quelli che sono dipendenti O gli dai un permesso medico Ma è scomodo Cioè gli dici Basta, te lo puoi prendere Cioè ormai ti sei rovinato Fuma Ok Però alle persone che ancora non hanno fumato Perché non dovresti Chiudere Il mercato delle sigarette Che secondo me è un mercato vecchio È un mercato che poteva andare bene nel 1800 Quando non si sapeva degli effetti negativi Che aveva il fumo sulla salute Ma adesso che si sanno Cioè seriamente Ha senso fumare Cioè seriamente Ha senso continuare a vendere una cosa totalmente inutile Che ti schiavizza Che ti rende dipendente Perché già ci sono abbastanza cose secondo me che danno dipendenza in questi anni C'è già il telefono C'è già qualsiasi dispositivo tecnologico Ormai è una droga Però è una droga Che è una droga non tanto per degli effetti che ti dà Cioè sicuramente ti dà degli effetti Cioè chimicamente succederà qualcosa nel cervello Però ti crea dipendenza perché ci puoi fare tante cose Cioè la dipendenza dal telefono Non è perché il telefono quando lo accendi Ti spara in vena Una sostanza che ti fa stare male quando non lo usi Semplicemente ti fa fare un sacco di cose E quindi Capito E a me è una cosa anche banale Nel senso Io non sono contro Ad esempio Cioè io sono abbastanza pro Alla legalizzazione magari Dell'erba Per esempio Non totalmente pro Perché non essendo utilizzatore Ho un po' paura in generale Di qualsiasi sostanza Non bevo neanche Cioè bevo molto raramente anche alcol Però nel senso io capisco Che Uno spinello ti possa dare il relax No? Cioè dici come uno spinello Sto tranquillo Bello rilassato Ok no ci sta Cioè ci sta Non so quanta dipendenza ti crei Cioè se ti crea più dipendenza L'erba rispetto alle sigarette Non lo so Ma sicuramente Ha senso Rovinarsi a causa di spinelli Cioè nel senso Non so come spiegarlo Ma È un po' una tazzata Nel senso Perché dovrei fare una cosa Che non mi serve a niente E che mi farà morire O Molto probabilmente ammalare Cioè Se non serve a nulla Perché A sto punto Mi fumo una ganna E Sono tranquillo Mi rilasso Ha degli effetti Effettivi Che sono anche negativi Perché comunque L'effetto Di Relax Di L'effetto psicotropo Che poi è dato dal THC L'effetto del CBD Lì per lì Nel senso sono Sono droghe Cioè nel senso Ti rilassano Hanno un effetto diretto Che ti fa stare Meglio Ovviamente Ti rovinano Cioè A lungo andare Esagerando Il cervello Non è una cosa positiva Per il cervello Però Comunque Ha senso Che tu abbia voglia Di farlo Ma il fumo Se fosse Cioè se scomparisse Dal mercato Le persone Che non hanno Mai fumato Cosa Gli ne frega Qual è il problema Di non avere Un coso Da succhiare Cioè Dagli un ciuccio Vendi dei ciucci Si lovineranno I denti Ma almeno Non si Sfanculano La salute A quelli Nati dopo il 2009 Se vogliono Ci sono i pacchetti Di ciucci Basta Risolto Non lo so Mi sembra una buona soluzione Non vedo Motiv Cioè Mi sembra una cosa da Oddio Ma Sì ma Toglio la libertà Ma Perché Ma lasciali fare Ma va bene Meglio Meglio che non si abbia Proprio la possibilità Ovviamente Il problema Qual è Il problema È il contrabbando È il Insomma Il mercato Nero Il mercato Nascosto Il mercato Non Ufficiale Che comunque Magari Fornirà sempre Sigarette Però Già che Venga tolta Dal mercato Vero e proprio Sicuramente Una percentuale Maggiore Smetterà Di fumo Cioè Non smetterà Non inizierà A fumare Perché Finché Il fumo È una cosa Accessibile A tutti Che io dico Vado lì Piglio un pacchetto E fumo Nessuno Si fa problemi Anche se C'è scritto Sopra il pacchetto Il pacchetto Che fa male Anche se Tutti Sono consapevoli Che faccia male Però Dice Vabbè Dai Piglio un pacchetto Tanto Poi Poi Smetto Cioè Per provare E poi Piglio la dipendenza Però Nel senso Se invece Lo togli Dal Dal Mercato Ufficiale È reperibile Solo Come è reperibile Adesso Ad esempio L'erba Il fumo Sono Abbastanza Sicuro Che Molte persone Non abbiano La voglia Di andare A dire Ok Voglio provare A fumare Allora Mi devo Informare Su chi Spazio No Chi se ne frega Non proverò Sta cosa Tanto è inutile Secondo me Funziona Poi Io non so Come funzionino Le regole Le leggi Nuova Zelanda Quanto rispetto Ci sia Delle leggi Quanto controllo Ci sia Sul Sulla Malavita Cioè Nel senso In Italia È una cazzata Se te togli Dal mercato Le sigarette Il giorno dopo È pieno Di venditori Di sigarette Illegali Che Stanno lì Tranquilli Non succede Niente Magari in Nuova Zelanda Non è Non è così facile Non lo so Non ne ho idea Magari il contrabbando In Nuova Zelanda Viene sgamato subito Oppure È più concessivo Che in Italia Cioè Appena te Esci così Puoi andare in giro Con i pacchetti Di erba Di sigarette E dire Oh ragazzi Vuole qualcosa Quei poliziotti Che ti guardano E dicono Vabbè Sono ragazzi Non lo so Comunque Niente Questa è la mia opinione Secondo me È una buona proposta Di legge Non so No Penso sia ufficiale Non è una proposta Di legge Penso sia una buona legge Perché ripeto Il problema del fumo Togliere il fumo Dal mercato È Che ci sono persone Dipendenti E se te togli il fumo A persone che sono Dipendenti dal fumo Le rovini Più di quanto Non possa rovinarle Il fumo stesso Perché il fumo Andrà a danneggiare i polmoni Andrà a danneggiare Quello che ti fare Ma La La dipendenza E la Mancata Possibilità Di avere ciò Che ti dà dipendenza Penso che sia peggio Perché ti va proprio A danneggiare Psicologicamente Anche fisicamente Ti Teperisci Probabilmente Quindi Niente Questa era M'opinione Togliamo il fumo A quelli che non hanno Ancora fumato Non hanno bisogno Basta Basta Questo fumo È una roba vecchia No? Vabbè Mi sento un coglione Però Vabbè Questo Questo è come Penso io Magari sono cazzate Però a me sembra Proprio una banalità Dire che hanno fatto bene Quindi niente Noi ci vediamo Nel prossimo video Ci vediamo domani Nel prossimo settimana Sempre ci vediamo Ciao ragazzi Buon 2023 Ancora